Bella raga, benvenuti in questo nuovo video Allora ragazzi, oggi vi porto un metodo per creare il magic slot per passare le modifiche dei veicoli moddati in meno di un minuto Allora ragazzi, iniziamo con i requisiti I requisiti per questo glitch sarà come la duplicazione che ho portato ragazzi Perché per l'appunto si fa proprio con la duplicazione Quindi base operativa piena di veicoli con un amico che ci dà una mano ragazzi E una moto più opposti per baggarci Ci servirà il com con all'interno a sto giro una LG ragazzi mi raccomando E all'interno del garage dell'attico di lusso che ci servirà come requisito Dobbiamo avere due LG ragazzi mi raccomando Una compratila per esempio verde chiaro in modo che la riconoscerete Perché quella sarà il magic slot Quindi a questo punto ci servirà anche il night perché useremo lo speedo per fare il glitch Ragazzi, una volta che avete preso tutti questi requisiti Non ci resta altro che andare a comprare, regà Nel sito Pedal Metal 3 BMX che ci serviranno per fare il magic slot Allora queste 3 BMX ragazzi le trovate in questo sito E le dovete comprare in un appartamento di lusso Ragazzi per esempio l'Eclipse Tower E comprate 3 BMX Nell'Eclipse Tower Io userò l'uno Una volta che avete comprato regà le 3 BMX Possiamo iniziare con il glitch Quindi come la duplicazione dobbiamo salire sulla moto Facciamo salire il nostro amico sulla moto Dopodiché andiamo dalla base che deve essere piena di veicoli ragazzi Quando noi saremo nel messaggio nero di sostituzione della base Il nostro amico dovrà fare lo switch di Franklin Quindi quando è in questa schermata farà lo switch di Franklin per andare in storia E a quel punto rimarrà lì Noi adesso facciamo B o cerchio ragazzi Scendiamo dalla moto La mandiamo al deposito Dopodiché gli diciamo al nostro amico di fare B o cerchio E scendere dal veicolo A questo punto ci sarà bagato correttamente ragazzi Adesso noi dovremmo fare una cosa diversa dalla duplicazione Perché noi stiamo facendo il magic slot Allora ragazzi Portiamo il nostro amico al casino Così lui ci aspetterà lì E una volta che l'abbiamo lasciato al casino Ci andiamo a recare dal nostro appartamento di lusso Dalle Clips Tower 1 ragazzi Che vi ho fatto prendere prima Dove abbiamo messo le 3 BMX all'interno Non vi preoccupate se morite durante il glitch Non succede niente Io non ho tagliato la clip apposta per farvelo vedere A questo punto una volta che siamo all'interno del garage Ci rechiamo dalle biciclette E andiamo a richiedere la prima bicicletta Quindi quando siamo davanti alle bici Quella di sinistra E schiacciamo la freccina per richiederla A questo punto dopo un breve caricamento Ragazzi spawneremo fuori con la BMX Adesso non vi ve lo ucciso la clip Per attaglio direttamente Dovete andare vicino al casino Con la BMX Una volta che siamo da queste parti Lasciamo la bicicletta per esempio in questa posizione E ci allontaniamo con il menu interazione aperto Ragazzi In modo tale da richiamare lo speedo custom Per iniziare a fare il glitch Come vedete io sono vicino alla bici Quindi non me lo fa richiedere Ma se noi ci allontaniamo ragazzi Io vi consiglio di prendere direttamente una macchina Io l'ho fatto piedi e ho sbagliato Comunque vi prendete un veicolo Vi allontanate E come potete vedere A una certa vi farà richiedere lo speedo custom Bene adesso fate scendere il vostro amico se è con voi E lo fate salire sullo speedo custom E lo fate tornare ragazzi dal parcheggio Nel frattempo potete pure rimandare il veicolo personale al deposito Una volta che il vostro amico è all'interno Quindi aspettate regà Quando è dentro col motore acceso Fate riporta veicolo personale al deposito Così ci saremo buggati perfettamente per fare il glitch Quindi a questo punto non ci resta altro che entrare dentro ragazzi Il garage dell'attico di lusso E andare a prendere la LG Quella verde che vi ho fatto comprare In modo che la riconosciamo Che questa ragazzi diventerà il nostro magic slot Quindi a questo punto semplicemente Mettete la LG in questo punto Come al solito Come la duplicazione Andate a prendere la seconda LG Che ci servirà solo per attappare la portiera E facciamo il solito glitch Schiacciate Y e A assieme ragazzi Per Xbox e triangolo e X assieme per PS A questo punto saremo fuori con il veicolo Che è la LG Che sarà il magic slot Una volta fuori ragazzi Dobbiamo richiedere il veicolo personale Che sarà la BMX Quindi facendo questo passaggio Andremo a creare il nostro magic slot A questo punto Quando sono passati 5-10 secondi E diciamo al nostro amico di scendere Regà E sbada bam Regà Avremo fatto il nostro magic slot Io spero che i video vi piacciono Regà lasciate un like E lasciate un commento Se volete testare il magic slot ragazzi Semplicemente Basta che modificate la LG E una volta che chiudete il gioco Quando lo riaccenderete Vedrete che è tornata tutta originale ragazzi Ora comunque per salvarlo Dovete infilare la LG Dentro il com Che io sto delirando Con tutte le macchine del parcheggio ragazzi Vi voglio ricordare Che questo glitch Regà Potete farlo sia su next Che su old Ma poi effettivamente potete usare Il magic slot Solo su old gen Perché per usarlo Regà Come ben sapete Chi fa macchine Bisogna staccare la connessione E purtroppo su next gen Siccome hanno messo la home Nel gioco Non ti fa dare più storia E ti manda in home E si sbagga il glitch Io spero che i miei video vi piacciono Lasciate un like Lasciate un commento Supportate Xavix Condividete Iscrivetevi a tutti i miei gruppi di telegramma Regà Lasciate un like Lasciate un commento Se non l'ho già detto Iscrivetevi Iscrivetevi E iscrivetevi Bella regà Alla prossima Se volete comunque sia Avere la conferma Che avete fatto il magic Basta che andate a comprare Una BMX Nello stesso garage E vedrete Che non ci sarà più Il terzo slot Perché l'abbiamo sacrificato Bella regà Alla prossima 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 Alla prossima